I dissidi con la giovane moglie erano iniziati da subito dopo il matrimonio perché la costringeva a frequentare la moschea e vestire in modo che lui considerava consono alla religione islamica e per questo nonostante la nascita di una figlia la loro storia è presto naufragata in una separazione, maltrattamenti che non risparmiavano nemmeno la figlioletta. Dal 2017 dopo la separazione era diventato sempre più integralista e la Digos aveva anche iniziato ad attenzionarlo. Recentemente infatti era finito sotto processo per stalking, ristretto in custodia cautelare per il reato di atti persecutori era stato infine condannato. Si era fatto crescere la barba, faticava a relazionarsi con le donne anche al lavoro dove era diventato sempre più schivo fino a licenziarsi. Florian Saraci, muratore albanese 32enne residente a Villorba, sarebbe finito in una spirale di radicalizzazione forse attraverso contatti con altri estremisti, gruppi di stranieri che gravitano nella provincia di Venezia. Per questo è stato espulso dal nostro paese e imbarcato verso Tirana, la sua città di origine. È stato infatti ritenuto pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica.